ciao beppe ti ho chiamato perché volevo hai visto finalmente ce l'abbiamo fatta con gli assessori li abbiamo toccolati era per mantenere un po' il personaggio comunque hai visto gli assessori ce l'abbiamo quasi fatta eh perché hai visto che hai visto Nicoletta alla scuola lei bravissima sta sempre a scuola tutti i giorni a scuola ma che bocciata l'hanno bocciata sembra una deficiente no no è proprio brava comunque quello che voglio dire hai visto ti ho piazzato casa alle produttive capelli a bilancio e folli all'ambiente ma sembrano i nuovi del cinegiornale luce ma che cazzo di noi sono in data odierna sono stati presentati casa alle produttive capelli al bilancio e folli all'ambiente la fai benissimo la voce perfetta la voce quella della scuola la tua non la sai fare però quella è perfetta praticamente comunque quello che volevo dire anche marani ha preso marani ha messo militante da pallavolo tutti i giorni sta canonista praticamente ma che cazzo fai l'esercito no vabbè scusami però quello che tu ti ho chiamato è perché volevo presentarti il nuovo al nostro nuovo assessore anzi lo presento eccolo qua saluta saluta ecco scusa ma come si chiama come si chiama si chiama ce l'avrà un nome no comunque è giglio assessori giglio assessori si no guarda che è un nome ma che va tantissimo fra gli assessori te lo dico comunque lui è una persona attivissima proprio una di quelle che non si fermano mai no 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 ma adesso no ma sembra così perché praticamente lui sta lavorando tutti i giorni veramente è proprio cioè è stanco stanco morto capisci ho capito no no ma veramente ma che ne pensa del fotovoltaico il fotovoltaico no il fotovoltaico lui è d'accordissimo ma non lo puoi rispondere scusa cosa ne pensi del fotovoltaico sono ovviamente d'accordo col fotovoltaico comunque vedi cioè lui proprio lo farebbe anche domani cioè ma tutti i giorni è foto ma che non si può veramente beppe io mi sono sempre mi sono sempre circondato di persone di cui mi fido e persone che sanno come si fanno le cose veramente veramente sul serio no non dire questa cosa scusa ti posso richiamare veramente beh c'ho un problema scusa di beppe ho capito casaleggio però potresti anche dare una ma non mangiare i piedi vabbè un piede sì piede tanto sotto non mi serve vabbè pronto pizzerotti pizzerotti ciao 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 ciao